Dopo due anni di grandi successi e di tutto esaurito, torna, Gran Galà, Natale sui pattini, le performance dei campioni mondiali, europei, italiani e degli atleti dell'Aguarino, anche in contemporanea alla grande voce di Ivana Spagna e dalle note del violinista elettrico Filippo Rolando. Due ore adrenaliniche, di evoluzioni da brivido, due ore imperdibili di sport, beneficenza, arte e spettacolo. Natale sui pattini, sabato 20 dicembre, ore 20 e 30, Palasport, Verona.